Ciao a tutti ragazzi ragazzi, è un video un po' diverso, sto sperimentando così Che brutto tempo, ecco se niente io sono fuori in mutande con bel venticello Bello, il fresco mi sta arrivando Niente ho visto in questi giorni, ma chi non lo sapesse io faccio delle scommesse sportive E diciamo che non mi ci posso lamentare, nel senso anni e anni di esperienze C'è seme da imparare, non dico che sono i quelli là incredibili che fanno vincite incredibili Però, un po' mi posso lamentare Però sto fine settimana, le cose non sono andate molto molto bene Ma non solo per me, penso un po' per tutti i scommettitori Soprattutto per chi scommette, soprattutto per la Serie A Come anche mi viene in mente anche il padre della mia ragazza Che lui gioco soltanto queste, le partite di Serie A e basta Ma a parte la Serie A ci sono stati anche altri campionati In cui delle squadre hanno fatto, tipo ieri ha pareggiato il Real Madrid con il Mallorca Io non ho avuto tempo di guardarmi le partite, sinceramente Però ho bestemmiato quando ho visto che l'Inter ha pareggiato 2-2 col Genova Stessa sera stava perdendo il Milan con il Torino Stava vincendo il Torino 2-0 Milan si è svegliata nei corsi in ultimi minuti Si è resa ondo che stava prendendo il cazzo E quindi hanno detto meglio recuperiamo, almeno pareggiamo E quindi le partite mi sembra di sabato Hanno tutti pareggiato, mi sembra a parte uno Mi sembra... no, il Bologna ha pareggiato pure Sai che era ieri Mi ricordo più chi cacchio aveva vinto Io saluto anche Ivano Divano che lui segue il calcio Che solamente lui l'avrà vista le partite E io mi riferisco pure a te Ivano che tu vedi queste partite Io vi consiglio anche di iscrivervi al suo canale Ivano Divano Che parla non solamente di film ma anche di calcio, attualità Parla di tante cose Un bravo ragazzo veramente Che saluto Stavo dicendo, chi ha visto queste partite mi può spiegare cosa è successo Cioè cose incredibili Ieri cazzo il Nambul che perde con i Berona Io veramente avevo pensato ai pareggiati Ma forse forse pareggeranno Ma no, porca puttana 3-0 Hanno perso Non me l'aspettavo Soprattutto che c'è il nuovo allenatore, il Conte Che ha fatto vincere No, lo scudetto Mi sembra uno o due volte all'Inter Cioè non è che si va a pallare No, mi sembra una volta il Conte l'ha fatto vincere Poi è passato a qualcun altro Non mi sto ricordando chi è stato All'Inter e chi ci stava dietro Mi sembra che era quello che era praticamente Porco giusto Mi sembra quello che aveva allenato la Lazio Era passato a quello Noi ragazzi, io c'ho un po' un problema con i nomi Con gli allenatori Perché mi ha detto Non sto molto appresso Dici, ma come io ti fai scommesso Non sei un cazzo Di allenatore, non sai niente Lo so, perdonatemi Non riesco a fare tutto O mi vedo i film o mi vedo le partite Però vedevo dall'applicazione Dove seguo le partite Vedevo che cazzo stava succedendo Quindi ho visto che tutti i big Hanno preso No? L'hanno preso Oggi c'è la Juve C'è l'Atlanta Non lo so Mi preoccupo Io già ve la dico adesso Secondo me L'Atlanta o vince o pareggia A Juventus Penso Ce la dovrebbe fare a vincere Penso C'è contro il Como Dai Per favore Senza offesa per quelli che vivono a Como Però Sta pure a casa a Juventus L'Atlanta con Lecce Lecce è un po' Un po' una squadra Che quando è in casa Dà il meglio di sé Di solito Portano sempre a casa un pareggio Di solito portano sempre questo Quando stanno a giocare a casa Niente Fatemi sapere un po' la vostra Se vi va così Di chiacchierare un po' di Di calcio Anche di scommesse Soprattutto Ci si può mettere d'accordo Per questa settimana Le partite Minchia che vendo Orca Eva Minchia Fatemi sapere un po' la vostra A me fa sempre piacere Lo sapete Niente Io vi saluto E ci vediamo sempre A un prossimo video Ciao